Allora, partiamo con una battuta che mi ha mandato il mio caro, è simpaticissima, di Nero Rocco Ballon, palo fuori, coion, ballon, palo dentro, campione Eh sì, è andata così, una trasformazione, colpisce il palo, entra dentro e sono quei due punti che ci hanno portato Ma questo per dire la battuta di prima era, anche se noi non avevamo quel calcio ultimo Che poi ci ha dato la soddisfazione enorme di vincere in uno stadio tipo questo del Battaglini Abbiamo fatto una gran bella partita, le abbiamo fatte anche le altre Allora, l'ho sempre detto, te lo sai, è una bella realtà che ha bisogno di un po' di pazienza Per cementare un qualcosa di interessante nel rugby italiano e a Firenze si può fare tranquillamente Grazie Pasquale